Ciao a tutti, sono qui a farvi una recensione perché come tanti di voi soprattutto interessati al ristrutturamento caso che altro, mi sono imbattuto a mettere l'automazione al cancello. Cosa vuol dire? Io ho un cancello scorrevole a mano e volevo metterci il motore da aprire col telecomando. Ho chiesto in giro a tante ditte il preventivo e quello che mi hanno chiesto era da una partenza di 800 più IVA fino a finire a 2000 euro. Ho iniziato a guardare in internet e soprattutto in ebay, che è il primo posto dove cade l'occhio, e ho trovato questa ditta, DFmatic. Sono qui a farvi la recensione perché chi avesse dei dubbi di cosa o la serietà che possono avere, è una ditta, io sono di Ferrara quindi sono molto lontano da loro, che si trovano a San Giovanni Teatino, ho acquistato il motore. Fanno dei motori di loro marchio, marchio DFmatic, io tra virgolette non mi sono fidato nel senso costava davvero molto poco e ho voluto prendere uno marchiato. Cosa vuol dire? Ho comprato come kit un kit tutto completo che si chiama kit Deimos Ultra marcato BFT, una marca conosciuta, così un domani che come assistenza ce l'ho anche nella mia zona. È da 24V, quindi c'è il suo trasformatore all'interno, dicevo marcato BFT, io ho pagato e come potete vedere è proprio originale, dopo ve lo farò vedere anche dal vivo, e vi vado a risumere quello che ho speso. Innanzitutto, io ho fatto il foglio per il completo. Cancello scorrevole 210 euro, di cui ci sono inclusi 15 euro di spedizioni. BFT Deimos Ultra, si chiama BT A400. Ho speso di cemento e sabbia 40 euro, la canalina per la corrente. Sì? Dicevo mi sono interrotto. Canalina dove stendere la corrente interrata in maniera che non si vede. La cremagliera perché nel kit che offrono la cremagliera non è inclusa. Io ho preso 6 metri anche se me ne servivano solo 5. Io ho speso 46 euro. Il filo per il lampeggiante perché serve un filo particolare sempre non incluso. Il cavo della corrente ho speso così. telecomando aggiuntivo perché nel kit c'è un solo telecomando, io ne ho spesi due. L'ho speso 381 euro. Più 10 più 20 perché ho preso dell'altro cavo della corrente. L'ho speso 411 euro totali. Questo è come l'ho disposto. Ve lo faccio vedere prima sul foglio perché dopo vedete tutto il disposto completo. C'è il motore, la fotocellula e il lampeggiante, il selettore a chiave perché l'ho comprato in maniera... un'altra fotocellula e la stesa dei fili. Ok? Questo sarebbe l'originale loro schema. Io l'ho solo girato perché il motore ce l'ho dall'altra parte e quindi per avere una leggenda di come metterlo giù. Queste sono... ci sono le istruzioni sia dal loro sito scaricabili prima di acquistare che assieme al kit che ti arriva. Istruzioni diciamo che non ti guidano passo passo e quindi devi o leggerti dei forum o aiutarti se ne conosci di elettricità. Però io sono riuscito a capire le varie cose fondamentali. Come potete vedere ci ho messo dei dei degli appunti. Vi posso dire che la programmazione è molto veloce perché il motore è dotato di display e non è a trimmer. Ok? E vi ripeto ho speso 210 euro per il kit. Cremaliere a parte, seconda fotocellula parte, quindi di totale inclusa la mano d'opera che ovviamente è gratis perché ho montato io. Ho speso 400 euro. Adesso vi faccio vedere. E' con fine corsa magnetici. Il lampeggiante è incluso ed è a led. Vi posso far vedere che loro mi hanno fatto la ricevuta di 2,68. Spedizione inclusa. Cremaliere inclusa. Secondo telecomando incluso. Ok? Adesso andiamo a analizzare. Vi faccio vedere come prima cosa il telecomando. Potete vedere è originale BFT e vi faccio vedere il suo funzionamento. Così potete rendervi l'idea. Questo è il cancello. Spingendo il pulsante. Il motore va. Posso dirvi che il motore è molto silenzioso. Ok? Adesso non renderà il massimo il lampeggiante perché siamo al tramonto. Sono le 7 di sera ed è luglio quindi al massimo però il lampeggiante come potete vedere funziona ed è a led. Questo è il motore marcato BFT come potete vedere con fine corsa magnetici. Perfetto. Questa è la piastra di fondazione che ho fatto io. L'ho ancorata sia con i Davis che con il chimico. Ho fatto la gettata come potete vedere. Qui c'è la seconda fotocellula e qui c'è il selettore a chiave che invece ho acquistato a parte perché mi sono dimenticato e non l'ho preso da loro. Quindi facendo così, cancello, si chiude. E se noi per caso ci passiamo in mezzo, adesso ecco, se riesco a togliere la chiave, questo torna indietro. L'unica cosa che vi posso dire che non sono rimasto contento, adesso vi faccio rivedere, sono le fotocellule. Le fotocellule perché non ho montato le sue originali o meglio ci ho provato però ho avuto dei grossi problemi. Il motore andava ma quando andava a montare le loro fotocellule, adesso con una mano non riesco ad aprirle. Non funzionavano, in poche parole non so se siano difettosi o che altro. Loro avendo una mole di lavoro esagerata, perché a questi prezzi riuscire a trovare la linea è molto complicato, però sono sempre disponibili e gentili. Han detto che me le mandavano in sostituzione. Io non posso avere un cancello senza le fotocellule. Non me le hanno mandate e si saranno dimenticati. Fotocellule le ho cambiate, ne ho messe io, comprate a parte, però questa sarebbe l'originale di F-Matic. Loro risparmiano perché ti vendono lampeggiante, cremagliera e fotocellule non della BFT, quindi abbattono i costi per questo. Io questa non so perché non funziona ma non va. Spero di esservi stato d'aiuto. La ditta è una ditta vera, non vende dei pacchi. Ovviamente richiede un attimo di delicatezza perché avendo tanti clienti con questi prezzi fanno fatica a starti dietro come assistenza, nel senso le mail non sono istantanee, però le spedizioni sono molto veloci. A me è arrivato in un giorno lavorativo. Vi posso far vedere la cremagliera che mi è avanzata, così la vedete. Io ho preso quella in nylon, adesso è girata al contrario, in nylon rivestita all'interno di ferro, quindi è più silenziosa. Dentro è dotata di viti autofillettanti incluse nel pacchetto per montarle al cancello e sono barre da un metro, tagliabili, perché ovviamente se non ci state, con questo spero di esservi stato d'aiuto, in caso volete acquistare un cancello si può fare. Io non l'ho mai fatto, serve pazienza e documentazione. Ciao e grazie per l'attenzione.